secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di guarda i miei video iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie dentro quello che vuole fare 236 metri hs e cosa vogliamo fare e vabbè non penso riusciamo a prendere quella di no porco diaz che hs c'è con pepere è tante 120 mamma mia madre di dios sono andato lì convinto full pad la città macha è rispetto si si non giocapi più l'unlucky grazie Samux anche tu mi fai eccitare Ragazzo Guarda la chat roccia Svets questo è un malato Si ma ha un colpo di pompa Brava Ma non aveva la pistola davvero Ciao bene vederti con me Con fortnite ciao Davy Brava guarda che tutti ti stanno dicendo brava Brava Fuck wait Hello Hello bro That's it Shit That's it That's it Wait I'm gonna do face country maybe Fuck wait Per the camp Oh my god No it's bad it's bad So They're Wking They're ramping us No 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 Mi viene un erezione Questo flamato Cosa ma che cazzo stai dicendo? ho visto qualcuno che ha scritto cose brutte ah uno della chatta? eh si uno della chatta infatti bannato solo che si fermano un secondo porca troia ma dove c'erlo? no no ma come? ma non ho fatto la giampa? ma... ok 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 c'è un cazzo vero? non c'è un cazzo? non c'è un cazzo? non c'è un cazzo vero? cosa? bello ma c'è gente da te? che succede? bello che di garb ha? che di garb ha? perché... dai 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 piccoli 200 euro se lo snippiamo oddio cos'è? non c'è un cazzo vero? non c'è un cazzo vero? ma che cazzo labbra fa quella porta? cuore rosso ma si che ho colpi se poi non ho ricaricato e ho sparato ma che cazzo dici? metto a vedere... ok mua... allora ora se ho i colpi bagniamo rosso andiamo a vedere andiamo a vedere caro rossellino andiamo a vedere come non ho i colpi in questo momento andiamo a fare una bella clip del mio canale come cazzo si fanno le clip del mio canale? non si fanno le clip del mio canale non si fanno no ragazzi non ce la faccio questo gioco non mi spara, non mi spara ma dio santo ho aperto la porta in faccia che volevo fare? ti volevo guardare non eri ironico puttana tua madre e uso un colmino e uso un colmino e diamo anche io adesso è la mia principessa amore nella mia vita e mi immagino tipo adesso è che partoreci riscristò madonna aspetta adesso sta partorendo adesso sta partorendo adesso sta partorendo e Ale buona bentà sei fortissimo bravissima bravissima ne finisci cazzo Morto ricci, dagliè! Non fetta! Porto non fetta! Entra! Fuori fuori fuori! Vieni cazzo! Morto, ho una guerra Quattro persone, due squadre Suciamelo il cazzo! Prendilo tutto! Ti piace leccarmelo? Puttana, i set di pallina Eh chat, non mi prendete in giro per i miei spasmi, cioè Stateci, stateci Ops Sarò pronto ad avere Twitter con le tue immagini tranquillo Ah, che bello Perdona Vabbè, ha scoperto che lui ruttava Quanti minuti di rutt si è fatto, raga? Metti sulle scorreggie Ci sono stati ultimamente, mi hanno impegnato per l'esame Vabbè, scusa, 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 vai tranquillo Quanti minuti avrò fatto, ragazzi, di soffocamento Dieci, dicono, 6-7 Vero, ciao Gabullo, grazie per il follow, Gabullori Non la vedo lei Anche da te così Loool Sono troppo forte col cecchino Sono troppo forte col cecchino Quanti minuti di che Cosa Cosa Grazie.